Non si salva praticamente nessuno nella Samp asfaltata al Franchi 5 a 0 e anche a Ugello finisce tra gli insufficienti, prende 5 in pagella, per la verità dopo un primo tempo nel quale si era distinto tenendo botta, coprendo bene la fascia, proponendosi anche talvolta in avanti, nel secondo viene travolto insieme ai compagni a un certo punto è sembrato mollare un po' anche lui, Dodò vince nettamente il duello da quella parte insomma poi anche quando entra Quame sono dolori, quindi 5 in pagella per Ugello